Buonasera a tutti i criptomalati, ben trovati qui con Fabrizio Ferri, il vostro analista tecnico. Allora, per chi scoprisse sullo stasera il canale mi raccomando, iscrizione e clic sulla campanella per non perdervi nessun aggiornamento, poi mi piace se il video vi piace ovviamente. Per quello che riguarda invece il disclaimer, non sono consigli finanziari ma è approccio tecnico al grafico per capire da che parte sta andando il mercato. Sapete quanto è importante la chiusura WIG se fate investimento di lungo periodo, perciò è interessante sia se si fanno investimenti di medio lungo che se si è older, quindi per capire da che parte sta andando il mercato. Partiamo con Bitcoin, partiamo dal grafico settimanale appunto, prima candela dopo tre settimane di bassiste che chiude verde, siamo sopra 50.200 dollari, vediamo se era la forza, il mercato di riprendersi, vette importanti e quindi aspettiamo le evoluzioni in settimana. Questo tipo di indicazione per quello che concerne la chiusura attuale è molto interessante perché ci fa capire che come abbiamo subito questa grossa scarica di balene, di speculazione, di mercato manipolato fino a 42, ecco siamo riusciti a riprendere quasi del tutto lo storno visto settimana scorsa. Cosa che però ancora dobbiamo attendere è la possibilità di vedere candele importanti che attestino la prosecuzione del trend rialzista. Momentaneamente la trendline tiene botta, cosa che però ancora è in attesa che si sviluppi è appunto una bella candela o un pattern che ci dimostri una forza di spinta per ulteriori rialzi. Comunque siamo a 50.000 quindi non parliamo di cifre basse e parliamo di prezzi molto importanti e di conseguenza è giusto leggerli con attenzione. Momentaneamente io sono, tra virgolette, sereno perché mai essere troppo tranquilli sui mercati, perché comunque vedo un mercato estremamente interessante e un mercato estremamente rialzista nonostante questi storni così profondi. Vado velocemente a fare un giro sulla CoinMarketCap per mostrarvi come anche la dominance sia cresciuta e come si stiano, diciamo così, avvicinando sempre con 20 punti percentuali di differenza Bitcoin ed Ethereum. Mediamente, fino a pochino di mesi fa avevamo un Bitcoin al 46%, adesso lo vediamo al 41%. Ethereum che stava mediamente tra il 18 e il 19% cammina in zona 21%, il che vuol dire che Ethereum è in procinto, probabilmente, di iniziare a raccimolare, a sgraffignare questo termine un po' infantile, un po' furbetto, a prendersi qualche briciola in più rispetto a Bitcoin. Quindi vediamo se ha la forza di mettersi, non ti dico in parallelo, però ecco, più o meno cercare di accostarsi il più possibile a Bitcoin. Torniamo sul grafico e vediamo appunto Ethereum che è sempre interessante vedere. Stasera ho un rospo in gola. Praticamente Ethereum invece sta chiudendo una settimana ancora negativa, però sono tutte candele di indecisione. Il trend mantiene fortemente la dinamica a rialzo. 4.140 è quota comunque interessantissima. Secondo me, finché tengono bot a due livelli fondamentali, i 3.9 grosso modo e i 3.550, 3.6, siamo ancora abbastanza positivi sul mercato di Ethereum che è senza dubbio più lanciato che non Bitcoin. Questo devo dirlo, il trend è molto più sano, è molto più interessante. Quindi ecco, valutiamo Ethereum con tanta attenzione perché secondo me potrebbe offrirci delle soddisfazioni davvero interessanti. Con Ethereum non possiamo dimenticare di BNB. Eccolo qui. BNB che sta mantenendo questo gioco di rimbalzo fra i 6.50 e i 500. 500 che rappresentano proprio il vero basamento di Binance Coin per il momento ovviamente. Mercato che sta dicendo ancora una piccola discesa potrebbe essere in atto, però la trendline si sta mantenendo fortissima a rialzo. Quindi sinceramente per il medio-lungo periodo sono ancora estremamente ottimista. Passiamo poi ovviamente a Solana perché non possiamo dimenticarci di una delle top 5 del mercato. Sta tenendo benissimo 174. Vediamo come concluderà la settimana. Momentaneamente penso che domenica ecco siamo agli sgoccioli quindi siamo per chiudere e secondo me terra botta. Queste 4-5 candele ribassiste a me non fanno preoccupare più di tanto anche perché il mercato è stato talmente pompato che ci stava che da 2.60 si potesse scendere un pochino e sinceramente non è una... su un mercato come le criptovalute perdere un 30-40% non è così. Diciamo un 35% poi non sono neanche di preciso, non ho fatto il conteggio e sì da qua a qua era un 37, sì 35% grossomodo ci sta. Non è una perdita così diciamo così drammatica ecco per essere precisi. Mercato che è assolutamente interessante, assolutamente a rialzo quindi teniamoci pronti perché secondo me sarà una fine di anno molto molto calda. Poi cosa importante per quello che riguarda la nostra operatività è sempre avere le idee chiare su come gestirla perché altrimenti poi diventerebbe un problema. Torno in market cap perché ho già in lista qualche cripto, voglio farvi vedere come si stanno evolvendo le più importanti quindi Cardano sta provando a rimettersi un pochino in corsa anche se c'è molta debolezza, Ripple stabilmente sotto il dollaro quindi ancora non offre i grossi spunti, Polkadot prova rimettere un po' il boost per quello che riguarda l'eventuale ripartenza del mercato. Luna ottime performance, ora le vedremo anche sui grafici. Avalance interessante ma sta stabile intorno ai 90 dollari. Shiba Inu riprende un più 5,90 dopo un calo abbastanza importante anche per quello che riguarda Shiba Inu nelle ultime giornate. Crow 0,60 sta iniziando a ricamminare, secondo me potrà offrire grosse performance, io voglio essere positivo perché credo ci siano presupposti importanti. Stasera Abu Dhabi è la tempestata di Crypto.com come sponsor e di conseguenza penso ci sia un piano importante dal punto di vista di marketing e di sviluppo quindi sono ottimista. L'unico difetto che ha Crypto.com è che è centralizzato però sapete che le persone vogliono anche questo, amano la percezione di stabilità e quindi potremmo assistere ad una sorta di sviluppo un po' più di dominio pubblico con Crypto.com visti anche tutti i vari sponsor che sta apprendendo quindi è assolutamente un mostro che si sta formando piano piano. Polygon interessantissimo, 2,13 mantiene un'emprende eccezionale. Ecco per quello che riguarda CryptoMinori c'è algo che si stava interfacciando con una zona 2 dollari, adesso è stato 1,50 secondo me è da tenere sotto controllo perché è molto interessante, a me stuzzica particolarmente. Poi c'è Descentral, come al solito è stabile intorno ai 3,60, 3,40, 3,80. X-Infinity scende a 104 dollari, cifra molto buona perché stavamo con i 150, mi sembra 148, 150 quindi assolutamente interessante. FTX dopo aver toccato 55 sbatta 41, vediamo se avrà forza per proseguire a rialzo perché questa è una cifra che secondo me è da considerare. FTX sponsor in Formula 1 quindi non dimentichiamoci che questi sono tutti gli exchange che stanno sviluppando un piano marketing notevole, insomma ci sono anche i fondamentali seri e poi tutte le altre che oggi non faremo tempo a vederle però ci sarà sicuramente modo di analizzarli insieme. Sandbox sta 5,40, cifra interessantissima, oggi ha fatto un più 8%, stiamo mantenendo la barca sull'onda, non c'è nulla di sconvolgente. Abbiamo visto Solana, ora andiamo a vederci insieme subito subito la chiusura di Cardano, quindi diamoci insieme Ada, eccola qui, Ada che sta chiudendo di nuovo una settimana negativa, 1,36 e allora qui per Ada c'è bisogno davvero di un capovolgimento di fronte, ogni ingresso fatto adesso secondo me è estremamente rischioso, però comunque potrebbe essere estremamente remunerativo sull'ottica di lungo periodo perché ovviamente piuttosto che acquistare Cardano a 3 dollari, acquistarla a 1,20, 1,30 sicuramente ha un altro sapore, quindi non so se la pensate come me, ma a me stuzzica sempre poter vedere certi cali perché poi si possono leggere come opportunità. DOT, ne parlavo l'altro giorno, c'era un supporto fondamentale, supporto dei 25,60, oggi sta in zona 29, è toccata addirittura 31,50, quindi ecco una cripto che sta provando a rimettersi in sesto anche perché la zona supportiva è assolutamente importante, non può essere trascurata e ovviamente non stiamo invertendo ancora, ma anche sull'ottica di medio lungo è rialzista, nulla da aggiungere, ma un po' con tutte quante le cripto, vedremo anche l'una, ottimo trend a rialzo, forse la migliore, cioè in termini proprio di performance, in termini di fluidità del trend, ovviamente dimostra al massimo due candele negative weekly, poi ha fatto solo candele verdi, cioè parliamo di un cripto che ha fatto da giugno, ha fatto 1425%, cioè valeva praticamente niente, stavano sui 5 totali, stavano anche sotto, ha fatto buone performance, poi ha rotto in basso e poi ripartirà con questa spinta monstruosa, il trend è assolutamente cavalcabile, assolutamente interessante anche su Terra Luna, chiudiamo con il metaverso, quindi vediamo Mana, cosa sta dicendo Mana, Decentraland, allora candela di indecisione sul mercato che comunque rimane rialzista, quindi a me non preoccupa più di tanto, io personalmente la sto mantenendo aperta senza alcun problema, si è addirittura incrementato, quindi sono estremamente positivo su Sandbox e su Decentraland, anche Sandbox ecco qua 5,40, io spiegavo che potesse toccare addirittura qualche cifra in meno, sta tenendo alla perfezione la trend line, 4,70 al minimo di settimana, secondo me molto interessante, nonostante questa chiusura che se dovesse essere russa, comporterebbe poco nulla sinceramente, però ecco quando è russa sto sempre un po' più attento perché diventerebbero stranamente dopo settimane di candele rialziste verdi, due candele comunque in chiusura negativa, che statisticamente non è mai una cosa simpatica, però vediamo che poi c'è stato sempre un minimo di scarico per poi ripartire con forza, per cui la forza è stata assolutamente esplosiva e incontenibile, insomma per quello che riguarda appunto il mercato delle cripto siamo in una fase secondo me di stallo momentaneo perché non si capisce se c'è la zona di accumulo per poi esplodere ancora il rialzo e concludere l'anno con i fuochi di artificio o se c'è, diciamo se si vuole mantenere questa incertezza su una sorta di trading range, un po' di lateralità che per molti versi è interessante per tanti altri, per chi sta investendo sul medio lungo il trading range non è nulla di particolarmente interessante a meno che non si facciano penne d'accumulo quindi si vadano poi a fare acquisti su prezzi un po' più bassi, ecco quella l'unica svolta positiva. Comunque detto ciò mi raccomando un bel mi piace, iscrizione se ancora non l'hai fatto e cosa importantissima non dimenticarti di scoprire le nostre pagine e profili social partendo dal gruppo telegram, perciò vai su telegram immediatamente, gruppo telegram malati per le cripto c'è anche il profilo ma diciamo di base è molto più interessante il gruppo, c'è il profilo di instagram e la pagina e il gruppo facebook, mi raccomando ragazzi non perdetevi nessun aggiornamento perché sto sviluppando molti prodotti interessanti, molti percorsi interessanti, molti video interessanti da investimenti passivi, da gestione della DeFi, da NFT, passiamo da argomenti che sono tutti quanti legati al mondo delle cripto però sviluppandoli in maniera diversa quindi attenzione studiate perché mantenere una sana operatività vi rende migliori e vi fa stare anche più sereni perché evitate gli errori che sono ovviamente magari fatti per negligenza, sono fatti per fretta eccessiva quindi mi raccomando ecco per questo ho fatto la scuola di trading trovate le informazioni giù in descrizione per qualsiasi dubbio o curiosità non vi resta che scrivere a infochiocciola fabrizioferri.it o infochiocciola malati per le cripto.com domani mattina il sito torna a essere attivo disponibile con news legate al mondo della finanza, criptovalute, azionario, indici e forex quindi saremo davvero sul pezzo e dulcis in fundo stiamo lanciando anche sul blog una sezione dedicata interamente al modo anzi o meglio ai modi per guadagnare online quindi vi voglio belli carichi ci danno tantissimi argomenti di cui parlare molto interessanti approfondimenti che possono essere utili anche se si fa già un lavoro e si vuole magari arrotondare con qualcosina in parallelo quindi mi raccomando studiate sempre e sempre sul pezzo ciao a tutti